Presso il nostro corso di laurea è possibile acquisire delle conoscenze specifiche su una metodologia di studio che è denominata archeologia dell'architettura. Questo è un campo di indagine relativamente nuovo che si è fermato in Italia a partire dalla metà degli anni 70 dello scorso secolo grazie anche al contributo di importanti studiosi del nostro dipartimento come Riccardo Francovic e Roberto Parenti. Queste metodologie sono oggi esposte in nostri insegnamenti, tra l'altro ci sono pochi insegnamenti in ambito accademico italiano di questo tipo. Ora analizzare archeologicamente un edificio, un'architettura, che cosa significa? Significa individuare tutte quelle azioni costruttive e distruttive che si sono succedute nel corso del tempo e quindi ricostruire la storia dell'edificio nelle sue trasformazioni. Per di recente un contesto dove noi abbiamo applicato questa metodologia di studio con discreto successo è quella della Basilica della Natività a Betlemme. Questo è uno dei progetti importanti del nostro dipartimento che è ancora in corso e che io sto conducendo insieme ad altri miei colleghi di dipartimento. Il gruppo degli archeologi senesi rientra in un team internazionale che dal 2010 lavora alla Basilica su commissione dell'autorità palestinese. Il nostro compito qual è stato? È stato quello di cercare di ricostruire le sequenze costruttive di questa chiesa e la Basilica della Natività infatti è un monumento universalmente noto, conosciuto da tutti ma non è poi così studiato in maniera... non ci sono numerosissimi studi a riguardo. Sono stati fatti degli scavi nella seconda metà del 1800, negli anni 40 del 1900 e sono stati fatti anche degli studi che però privilegiano un tipo di approccio proprio della storia dell'arte e della storia dell'architettura. Ora la Basilica della Natività è un grande complesso che è composto appunto da una sua entrata che si definisce Nartesce, l'edificio vero e proprio che è suddiviso in tre navate con la parte terminale composta dalle grandi absidi. Al di sotto di questo edificio si trovano le famose grotte, la nota grotta della Natività, il complesso delle grotte chiamate grotte di San Girolamo, aperte ai pellegrini, le grotte cosiddette degli innocenti che non sono visitabili dai turisti oggi analogamente alla grotta della Vacro. Questo edificio è racchiuso al centro di tutta una serie di edifici dove abitano oggi le diverse comunità dei Francescani, degli Ortodossi e degli Armeni. Dalle fonti scritte sappiamo che cosa? che la Basilica della Natività è stata fondata dall'imperatore Costantino a partire dal 325. Secondo alcuni documenti nel 333 la Basilica doveva già essere costruita. Analogamente ci sono altri documenti che ci dicono che un importante ruolo lo ebbe anche l'imperatore Giustiniano nel corso del VI secolo, quindi intorno alla metà del Cinquecento. Per alcuni documenti Giustiniano avrebbe ricostruito quasi totalmente questa Basilica distrutta a seguito di una rivolta dei Samaritani. Durante gli scavi che ho citato prima, soprattutto quelli degli anni 40 del 1900, sono state trovate delle tracce consistenti sia delle attività dell'imperatore costruttive dell'imperatore Costantino sia legate all'imperatore Giustiniano. E di conseguenza il nodo, il problema intorno al quale si sono concentrati tutti gli studi relativi alla Basilica della Natività è cercare di capire a quale di queste fasi appartenessero le architetture che ancora oggi noi vediamo e che i pellegrini visitano. Anche perché, secondo alcuni studiosi, queste architetture apparterebbero tutte, dipenderebbero tutte dalla volontà di Giustiniano, la committenza di Giustiniano. Secondo altri studiosi, Giustiniano si sarebbe limitato a voler fare costruire solo le absidi retrostanti della Chiesa. Secondo altri ancora, la Basilica attuale sarebbe il frutto di un cantiere avvenuto tra la fine del Quattrocento e l'inizio del Cinquecento, quindi prima del regno di Giustiniano. Secondo altri ancora, la Basilica, le absidi soprattutto, sarebbero state costruite in età crociata. Del resto è proprio quando arrivano i crociati che la Basilica subisce alcune trasformazioni importanti, tra cui la costruzione di molti degli edifici che oggi la circondano e, ad esempio, il rinnovamento delle decorazioni interne, come gli splendidi mosaici che oggi decorano le pareti della navata principale. Quindi il nostro obiettivo era cercare proprio di capire, di rispondere ai quesiti che ho appena citato. Che cosa siamo arrivati a concludere con la nostra ricerca? Il nostro lavoro ha evidenziato che cosa? Ha evidenziato che tutta la Basilica che noi oggi vediamo, quindi l'entrata, il nartesce, la facciata, la navata, le absidi retrostanti, sono il frutto di un lavoro unitario ed omogeneo, avvenuto nello stesso tempo e quindi non sono il frutto di operazioni costruttive diversificate nel corso del tempo. Inoltre, poi, grazie al contributo di un altro dei gruppi di ricerca che noi con cui abbiamo lavorato in questo team internazionale, è stato possibile effettuare delle analisi al radiocarbonio dei legni che sovrastano le colonne interne alla navata. Queste datazioni al radiocarbonio ci hanno restituito l'età di questi legni che noi possiamo oggi rapportare con sicurezza ad un periodo compreso alla seconda metà del VI secolo, primi decenni di quello successivo. Quindi questo ci aiuta a capire che cosa? Che non solo la Basilica di oggi, che oggi noi vediamo, che oggi noi visitiamo, è il frutto di un lavoro unitario, costruttivo, ma anche questo ci aiuta a dare una datazione di questo edificio che oggi possiamo sostenere con maggiore certezza costruito proprio durante, iniziato per lo meno a costruire durante il Regno di Giustiniano e proseguito nei decenni successivi, quindi nella seconda metà del VI secolo. Tra le altre cose, il nostro lavoro ci ha anche aiutato a capire le microfasi di questo cantiere, unitario ripeto, e abbiamo potuto capire che i costruttori iniziarono a costruire dalla facciata di questo edificio per poi proseguire nelle apsidi retrostanti e poi cominciare a costruire la parte alta, quella provvista delle belle grandi finestre che danno la luce all'interno del nostro edificio. Inoltre, grazie anche al nostro lavoro, siamo riusciti a capire il rapporto tra la chiesa attuale e le grotte sottostanti e abbiamo capito che proprio grazie all'impegno economico di questo grande cantiere edilizio voluto appunto da Giustiniano, è questo il momento in cui si riadattano le entrate al sistema delle grotte sottostanti. Quindi vengono costruiti degli accessi monumentali, non solo alla stessa grotta della Natività che già era visitabile o perlomeno visibile con la Basilica di Costantino che attualmente è coperta dall'attuale pavimento della Basilica e quindi si sono realizzati in questo momento gli accessi attuali ma in questo momento furono realizzati anche gli accessi alle altre grotte sottostanti. Questo per fare in modo che non solo fosse costruito un bellissimo edificio che miracolosamente è sopravvissuto nella sua intierezza fino ai nostri giorni ma fosse anche incentivato quel flusso di pellegrini già da allora e che ancora oggi numerosissimi visitano tutti i giorni la Basilica della Natività. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!